Benvenuti. Benvenuti siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Orobie Extra. Sul numero di aprile della nostra rivista vi raccontiamo di un giardino di Iris, il giardino delle Iris di Castel Trebecco. Trebecco è frazione di Credaro e vi raccontiamo la storia non soltanto di questo giardino ma della sua curatrice attuale che ha ereditato questi luoghi e questi preziosi fiori dal papà Luigi Mostosi. Ci colleghiamo quindi con Trebecco dove troviamo Cristina Mostosi. Bentrovata. Ciao Cristina e buongiorno a tutti. È la storia di questo giardino già affascinante. Noi tra l'altro ne avevamo anche parlato anni fa già sulla rivista ed è bello come questo giardino è diventato uno strumento di ripartenza, di rinascita. Esattamente sì da quando l'ho ricevuta in eredità da mio padre sette anni fa me ne sono occupata. Era un giardino in stato di semi abbandono e ero molto preoccupata di poter perdere la collezione di mio padre. Quindi in due anni mi sono dedicata completamente tutto il mio tempo libero e il giardino è ritornato a rinascere e le sue iris a fiorire e devo dire io con loro. Quindi è stata una storia di rinascita sia per me che per il giardino. Un'avventura affascinante, non avrei mai pensato. Una collezione importante quella di tuo papà che aveva creato nuovi tipi di iris. Sì, mio padre era un ibridatore di iris barbate alte e in più di 30 anni di attività, di passione, di ibridazione ha creato tantissimi tipi nuovi, specie nuove di iris. E con alcune anche partecipò a tantissime mostre a Firenze, Parigi, Germania, Francia e ne vinse veramente tante. Compreso quella che mi piace più ricordare è stato nel 2004 con un iris che è mascherina veneziana, appunto un rosso. Ed è stato nominato come primo premio per il miglior rosso del 2004 nel premio a Città di Firenze. Molto importante, quindi è un riconoscimento veramente speciale. E per te questo giardino è stata un'occasione di rinascita perché purtroppo la vostra famiglia è stata colpita da una grande tragedia, il femminicidio di tua sorella Paola proprio 20 anni fa. E tu da lì sei partita, sei ripartita. Io da lì sono ripartita, non pensavo di riuscire a sopravvivere ad un dolore così devastante, ma comunque ho capito, questo è stato l'insegnamento che questa tragedia allucinante mi ha lasciato, che comunque possiamo anche, diciamo nella vita avvengono cose senza un motivo e a noi tocca solo accettarle. Non possiamo ragionarle, non possiamo capire il perché. Faremmo solo un esercizio intellettuale, ma la vita non è questo. Quindi possiamo solo accettare, però ho capito che possiamo decidere come vivere il dolore. Io ho deciso di non arrendermi, mi sono attaccata alla vita e diciamo che dalla sistemazione di questo giardino poi sono venuti a cascata altri progetti e per me una nuova prospettiva di vita, incentrata sulla natura. Infatti mi è mancata tantissimo durante il primo lockdown che non ho potuto venire qua a Trebecco e quindi uno stile di vita più attaccato alla natura, un ritorno a madre natura e poi anche questo giardino è stato motivo anche di riflessione perché appunto durante il lockdown, grazie anche a tutti i libri che mio padre mi aveva lasciato di botanico che ho potuto leggerli nel tempo libero che avevo forzato purtroppo e da lì poi sono gemmati altri progetti come la Biblioteca della Natura Paula Mostosi, l'iniziativa L'Iris e l'Arte e poi l'ultimo progetto che è prettamente botanico, una Iris per non dimenticare, è rivolto a tutti i comuni d'Italia. Quindi diciamo io a questo giardino sono molto legata, mi sento un po' come... cioè lui è una parte di me sicuramente come due vasi comunicanti e mi ha dato modo di trasformare questo grande dolore in energia positiva e in qualcosa che non è rimasto lì fino a se stesso ma è un qualcosa poi che mi ha permesso anche di aprirmi agli altri e di tessere dei legami molto forti di collaborazione e diciamo un giardino come cura, il verde come cura della propria anima ma anche del corpo e come un'opportunità per risolvere, per rielaborare un lutto infinito. Per quanto riguarda la biblioteca tu appunto vuoi realizzare uno spazio sia dove troveranno posto anche proprio le Iris ma soprattutto la collezione di libri di tuo papà tanti volumi che ti stanno donando, che ti hanno donato già in questi anni. Sì, in questi due anni sono partita appunto come dicevo prima dal primo lockdown di marzo 2020 sono partita dalla base, come base avevo i libri di mio padre, 400-500 libri prettamente di botanica ma anche di ornitologia, paleontologia perché mio padre era molto appassionato di tutto ciò che è proprio natura in senso lato e poi con i social, con amici, ma più che altro usando i social sono arrivata a quota quasi 5.000 e la biblioteca contiene dei libri veramente importanti alcuni sono pezzi unici, introvabili altri ne ho comprati io, libri antichi del 1800-1821 e poi c'è anche una sezione, ho avuto tante donazioni anche dalle case editrici indipendenti e una sezione che io chiamo Rossa è dedicata appunto al tema della violenza sulla donna quindi argomento molto specifico sull'autostima, il senso di sé si parla anche di rapporti d'amore sano, rapporto malato, pregiudizi sessisti e inoltre ho anche un'altra sezione dedicata proprio ai bambini ci sono case editrici che pubblicano libri per bambini che insegnano ai bambini il rispetto della diversità di genere e quindi per crescere fin dall'asilo, diciamo, della prima infanzia crescere svincolati da questi pregiudizi che poi portano alla violenza anche perché è un problema che va affrontato fino a quando il bambino è molto piccolo per poter prevenire il problema, io penso questo Tra l'altro anche nel tuo giardino c'è una panchina rossa che ricorda appunto la violenza e le vittime della violenza Adesso vi porto, l'anno scorso con un'amica che è un'artista, una fotografa toscana che è aderito al progetto Le Iris e l'Arte mi ha aiutato a dipingere di rosso questa panchina che era stato l'ultimo acquisto che mio padre in vita aveva fatto per il giardino e questa qua, vediamo se si vede è questa panchina si vede? Sì, si vede e niente, qua è... l'avevo chiamata la panchina del tramonto perché da questa angolazione si vede un tramonto bellissimo verso Castelli di Calepio, verso il castello dei Conti Calepio e niente, questa è una panchina che vuole lasciare un segno per chi passa per chi viene in visita anche perché appunto dal 25 aprile si aprirà il giardino, le visite guidate e quindi è un ricordo per chi non c'è più per chi potrebbe essere seduto in questa panchina e come ce ne sono un po' in tutta Italia un po' in tutti i comuni d'Italia queste panchine rosse Tra l'altro appunto stai preparando a riaprire il giardino come facevi prima della pandemia ci sarà una visita particolare e speciale anche per gli amici di Orobie? Esattamente abbiamo deciso insieme di dedicare per 20 persone i primi 20 che scriveranno all'indirizzo di posta elettronica che trovano sulla rivista di aprile mi sembra entro il 22, giusto? Sì, sì, il 22 aprile alle 9 devono scrivere Ecco, i primi 20 potranno venire, verranno ospitati da me e passeremo un'ora e mezza insieme nel pomeriggio e racconterò loro un po' la storia del giardino e una carrellata di informazioni sulle iris a partire diciamo dal punto di vista mitologico fino ad arrivare poi a un discorso prettamente botanico è sempre molto interessante in questo giardino si fanno anche tanti incontri speciali perché le persone che amano la natura e che raggiungono il mio giardino vengono un po' da tutta Italia quindi è proprio anche un'occasione di scambio e di contaminarsi un po' a vicenda persone che magari normalmente non si incontrerebbero mai Parlavi poi del progetto parlavi prima del progetto che coinvolge i comuni e diversi comuni hanno già aderito di creare una aiuola, una bordura di iris sempre per ricordare le vittime della violenza Sì, l'ultimo progetto a cui ho dato vita è un progetto botanico che ho chiamato una iris per non dimenticare è rivolto principalmente ai comuni d'Italia ma ha anche aderito per esempio una parrocchia la parrocchia di Torre Boldone e poi mi hanno anche scritto tante scuole ad esempio anche il liceo nostro Mascheroni per l'anno prossimo per il 2023 c'è in corso un progetto per una aiuola anche lì anche perché da questo allora in pratica io regalo un kit delle mie iris per realizzare una aiuola il comune che aderirà a questa iniziativa chiamato appunto una iris per non dimenticare o potrà essere anche una un altro ente tipo una scuola o un'associazione che abbia un po' di verde riceverà un kit da parte mia contenente iris della mia coltivazione del mio giardino appartenente appunto a iris ibridati da mio padre e dovrà essere realizzato un'aiola il comune dovrà garantire che verrà inserita una targa con un testo che è uguale per tutti gli aderenti che è appunto un iris per non dimenticare Paola Mostosi e tutte le altre vittime di violenza sono già arrivata a quota 11 e sono partita da novembre 2021 pochi mesi fa sono molto contenta perché anche in Instagram adesso mi ha contattato una scuola Umbra di ragazzi del liceo scientifico e quindi mi fa molto piacere che ci sia sensibilità anche tra i giovani perché veramente è un problema questo della violenza sulle donne che è sempre più che si ingrandisce sempre di più basti pensare che l'anno scorso ogni 72 ore una donna è stata uccisa quindi bisognerà sempre sensibilizzare e fare attività di prevenzione del problema in attesa di venire a vedere le iris dal vivo la fioritura come sta andando beh allora considerando che c'è stata una siccità incredibile perché ormai sono tre mesi che non piove quelle che a marzo si di solito sbocciano si stanno ho già qualche bocciolo certo sono molto basse proprio perché non avendo avuto acqua non si sono potute sviluppare ma l'iris come la chiamo io è una pianta guerriera quindi è in previsione in arrivo un po' d'acqua e si riprenderanno molto molto bene non sono preoccupata per questo ritardo anche perché poi in natura è tutto imprevedibile e ogni anno tutto avviene tutto si ripete con grande calma con grande lentezza indipendentemente dai problemi che l'uomo può avere di pandemia o di guerra purtroppo la natura va da sé grazie grazie Cristina Mustosi per essere stata con noi grazie a voi e ci vediamo il 30 aprile ciao noi ci fermiamo qualche istante e diamo spazio alla pubblicità tra poco siamo di nuovo insieme a Orobia Extra sul numero di aprile della nostra rivista vi portiamo in una bella escursione scialpinistica alla Cima delle Oche a Lizzola frazione di Valbondione ci accompagna il CT della Nazionale di Snowboard italiana e campione a sua volta di snowboard Cesare Pisoni che è stato appunto in questi luoghi insieme a Simone Semperboni che è un maestro di snowboard da un'aspirante guida alpina li ha accompagnati il fotografo Stefano Vedovati e appunto hanno portato e portano i nostri lettori in una bella escursione in una cima non difficilissima ma che garantisce una discesa spettacolare un'escursione tra le valli Seriana e di Scalve noi abbiamo realizzato una brevissima intervista proprio sulla Cima delle Oche l'ascoltiamo insieme e subito dopo vi proponiamo l'itinerario che come sempre ci accompagna per capire tutte le per avere tutte le informazioni riguardo a questi itinerari realizzato da Massimo Sonzoni allora l'itinerario di oggi è un itinerario in Alta Val Seriana siamo venuti con Simone Semperboni che è un mio ex allievo qui a Lizzola quando facevo il maestro ma poi anche durante il corso maestri è una persona molto in gamba è uno dei giovani che sta cercando di portare avanti una professione secondo me molto importante che nelle nostre valli ci siano figure di questo genere per la sopravvivenza delle nostre valli Lizzola è una località dove sono molto legato perché avevo iniziato a fare il maestro di sci e di snowboard nel 1989 è dove ho iniziato ad andare in snowboard e l'itinerario di oggi è un itinerario classico abbastanza semplice siamo saliti dal campo scuola siamo passati per il passo dalla manina e siamo arrivati qui alla punta delle oche adesso poi scenderemo e risaliremo anche per lo sponda vaga sono discese classiche di questa località non troppo impegnative ma che danno soddisfazione è facile trovare delle buone condizioni ovvio che bisogna sempre tenere le antenne bene dritte e verificare per tempo il bollettino nivo meteorologico per essere sicuri e l'ideale ovviamente è quello di rivolgersi in questo caso a una guida alpina qui in zona abbiamo la fortuna finalmente di avere un giovane che si sa muovere molto bene con gli sci o con lo snowboard di conseguenza è importante che ci sia questa cultura della montagna questo modo di muoversi con criterio per cercare di apprendere anche tutte quelle che sono le regole della montagna che sono fondamentali si tratta di un itinerario breve che può regalare ottime sensazioni in termini di qualità della discesa la partenza è dal campo scuola sci di Lizzola frazione di Valbondione nella bergamasca alta valle seriana lungo via Pacati gli spazi per parcheggiare non mancano cominciamo a salire facendoci guidare dal segna via 307 in pratica si segue la via estiva che conduce alla chiesetta della Madonna Pellegrina al passo della Manina transitati dalla baita Asta Bassa a 1427 metri pieghiamo in modo netto a sinistra sempre seguendo il percorso 307 il balzo di quota richiede maggiore impegno fino allo spartiacque tra le valli seriana e di scalve la vista su vette simbolo delle orovie come i pizzicoca e redorta e la presolana catturano per più di qualche minuto i nostri sguardi ammirati ci si abbassa un breve tratto per ricominciare quasi subito a riguadagnare altitudine in maniera decisa il tracciato di riferimento è ora il 407 che indirizza al monte Pizzul avanziamo sul versante scalvino dell'escursione e affrontiamo un traverso molto lungo ed esposto a sud est vanno quindi valutate con attenzione le condizioni del mando del uso si raccomanda di verificare il bollettino nivo meteorologico www.aineva.it e di programmare l'uscita a un orario adeguato per evitare che l'irradiamento solare possa provocare dei distanti lasciato alle spalle il monte Pizzul rimanendo lungo la linea sotto la vetta risaliamo dirigendoci a destra la cresta che ancora una volta fa da confine tra le valli seriane e di scalve ci porta alla croce di vetta della cima delle oche a 2.119 metri di quota dalla sommità la discesa è ripida subito impegnativa divertiamo quota in un canale e giriamo a destra con la possibilità di variare in funzione delle condizioni dell'innevamento la vegetazione è piuttosto rada costituita in particolare da ontari il versante è rivolto a nord ovest e di conseguenza la qualità della neve è spesso eccellente affrontata la prima parte dei canali il pendio si apre diventando molto più semplice e sicuro continuiamo a sciare scendendo nella valle dell'asta giunti a una cascatella di ghiaccio puntiamo di nuovo verso destra riportandoci alla baita asta bassa rientriamo seguendo il sentiero iniziale che si snoda dal campo scuola sci di Lizzola con il numero di orobie di aprile è possibile acquistare anche la guida escursionistica doll dei tre signori realizzata dalla nostra rivista in collaborazione con i talcementi che fa parte della collana i cammini di orobie editi da moma edizione la trovate nelle edicole della provincia di Monza Brianza la guida è stata scritta e curata da Sara Ilvernizzi Luca Rota e Ruggero Meles che ci racconta due delle sette tappe che portano dalla città di Bergamo a Colico oppure a Morbegno in questi filmati che ha realizzato proprio sul tracciato della doll li guardiamo insieme Siamo sulla dorsale aerobica lecchese doll è una specie di scala che sale dalla pianura verso le montagne e che porterà chi la percorre da Bergamo fino alla Valtellina o a Colico siamo nella seconda tappa la prima tappa ha portato dalla stazione di Bergamo alla Roncola passando per Città Alta e per i Colli di Bergamo Dopo aver dormito alla Roncola siamo saliti questo è il Monte Linzone la betta si vede alle mie spalle circondata da questa fioritura di crocchi siamo nel mese di marzo e sono i crocchi che sono fioriti a maggio ci sarà una fioritura di Narcisi che renderà bianca tutta questa prateria alle mie spalle è un posto unico la vista che si gode dal Monte Linzone e proseguendo più avanti dal Monte Tesoro è uno dei luoghi più belli delle Prealpi perché si affaccia sulla pianura se andiamo in direzione verso Bergamo possiamo vedere spaziare su tutta la pianura bergamasca fino quasi al Monte Adamello verso sud nelle giornate e nelle giornate limpide si vedono gli appennini e se andiamo verso nord oltre il lago di Como le montagne del Lecchese si apre la cerchia alpina è davvero un luogo unico siamo appunto nella seconda tappa proseguendo per questo cammino attraverseremo Valcava arriveremo sul Monte Tesoro attraverso il valico del Pertus e dal Pertus si scenderà o a Morterone dove si potrà dormire o a Rifugio Resegoni siamo sulla terza tappa della DOL la dorsale aerobica del Chiesi da Morterone siamo arrivati alla Cuglie di San Pietro e dalla Cuglie di San Pietro siamo saliti sulla variante invernale della dorsale aerobica del Chiesi qui siamo allo zucco a Maesimo l'alpeggio di Maesimo l'alpeggio dove d'estate si possono trovare dei formaggi siamo arrivati nella conca dei piani di Artavaggio località che una volta era sciistica che poi ancora adesso però è una località dove non ci sono più impianti di sci ma molto bella in inverno e molto bella anche in estate sulla conca pratosa ci sono molti allevatori pastori che portano che producono formaggio alle mie spalle c'è la conca dei piani di Artavaggio con la caratteristica o montagna triangolare del pizzo soldatura sulla destra invece lo zucco nei campelli e la parte i piani di Bobbio che raggiungeremo in giornata ai piani di Bobbio c'è la finisce la terza tappa della dorsale aerobica lecchese e comincia la quarta tappa che porterà verso il rifugio Grassi e da lì verso la Valtellina la Valgerola vi ricordo appunto che è possibile acquistare la guida doll dei tre signori al costo di 11,50 euro più il prezzo della rivista Orobie è tutto per questa edizione di Orobie Extra io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento per la prossima settimana grazie a tutti